Dicevamo nel video precedente su che cos'è la filosofia e quali erano state le risposte dei primi filosofi considerate per lo più primitive, ingenue, relativamente alle basi dell'universo, i principi basilari dell'universo, l'aria, l'acqua, l'archè, di cui parlavano i filosofi cosiddetti presocratici. Ma ciò che cambia nella filosofia occidentale è il metodo, è un nuovo stile che caratterizza questi filosofi, i quali adottano un metodo razionale e critico e questo è il discrimine che esiste tra la mitologia e la filosofia intesa proprio come sapere di tipo razionale. La ragione dei filosofi è l'oggetto della filosofia stessa, o almeno le tante modalità di guardare alla ragione filosofica, dalla Grecia all'età moderna, all'età contemporanea, attraverso cartesio fino ad arrivare ai contemporanei come Heidegger, Wittgenstein etc. In che consiste la ragione filosofica? Possiamo dire che la ragione dei filosofi si caratterizza per il bisogno di dimostrare ciò che viene esserito. L'ideale dimostrativo è all'origine della nostra conoscenza scientifica. Lo studio della filosofia è molto utile perché ci libera dalle superstizioni e dalle credenze ingenue che mortificano la nostra umanità e ci insegna un metodo. Un metodo che consiste nel chiedere e dare ragione alle proprie credenze. Il metodo argomentativo o dimostrativo. In filosofia noi non possiamo accettare ciò che ci viene imposto in modo autoritario, ma dobbiamo pensare liberamente. Quindi la filosofia è anche una grande scuola di libertà. A questo proposito citiamo una frase di Seneca molto bella. La filosofia non è un'arte atta a procacciarsi il favore del popolo e di cui si possa fare ostentazione. Essa non consiste nelle parole, ma nelle azioni. La filosofia forgia l'anima, regola la vita, governa le azioni, insegna ciò che si deve fare e ciò che si deve evitare. Sta al timone e dirige il corso delle navi in balia delle onde attraverso i pericoli. Senza la filosofia nessuno può vivere libero da timore e tranquillo. Ad ogni istante accadono numerosi fatti i quali esigono consigli che solo essa può dare. Questa è una parte della lettera Lucilio scritta da Seneca. Un'altra riflessione che è sollecitata dal testo che abbiamo appena letto. Oggi siamo impotenti davanti a tante situazioni nella nostra vita contemporanea. Le grandi catastrofi di carattere naturale e sociale, ma risultiamo impotenti anche di fronte alle ordinarie difficoltà della vita. La fine di un amore la sconfitta in una gara sportiva eccetera eccetera. Molto spesso per farvi fronte ricadiamo in errore, rifugiamo nel conformismo sociale e diamo risposte superficiali. Altre volte cadiamo nelle scorciatoie rappresentate dall'alcol, dal rifiuto del cibo o anche per dare risposte in modo da poter attrarre l'attenzione degli altri. Agiamo quindi in modo sconsiderato. La filosofia può darci una mano, col suo stile proprio, cioè invitandoci a riflettere prima di agire. In questo senso la filosofia è una scuola di libertà e pertanto accogliamo l'invito di Epicuro il quale diceva che per i giovani, per i vecchi non è mai troppo tardi per filosofare, mai troppo tardi per pensare a noi stessi.